Con la firma di tutte le categorie economiche della città è stato presentato a Rimini il protocollo per lo sviluppo e la competitività per gli anni 2012-2013. Curato dall'amministrazione provinciale, il documento prevede numerosi punti per cercare di aiutare il territorio riminese a fronteggiare la crisi economica. L'iqualificazione del territorio in veste ecosostenibile, maggiori investimenti per le infrastrutture, un occhio vigile sulle sempre presenti infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, questi solo alcuni dei principi cardine che però indicano come problema principale lo spinoso tema dell'accesso al credito da parte delle imprese e per cui si annuncia un tavolo di concertazione con gli istituti bancari nei primi giorni del nuovo anno. La difficoltà per le nostre imprese in questo momento è di avere finanziamenti sia per la liquidità ma anche per gli investimenti per un periodo più di medio periodo che però invece sarebbero importantissimi sia per uscire da questa fase ma anche per guardare al futuro e per innescare dinamiche di sviluppo e di uscita da questa situazione. Dal territorio possiamo fare molto ma dobbiamo farlo tutti, le istituzioni, le categorie economiche, i sindacati si sono messi a un tavolo, abbiamo ragionato e abbiamo individuato delle azioni concrete, gli istituti di credito devono fare la loro parte come stiamo provando a farla noi. Dare la possibilità alle imprese di avere della liquidità immediata e poi una seconda fase legata al futuro e agli investimenti, però lo faremo insieme ai consorzi, quindi ai rappresentanti dei consorzi fidi e successivamente anche con gli istituti di credito, quindi verrà aperto un tavolo dove verranno coinvolti tutti proprio perché in questa situazione di difficoltà siamo, come si dice, tutti sulla stessa barca.